Ora eccoci qua, siamo con il team Digital PR del coach Enzo che mi ha lasciato la postazione del nostro praticantato operativo avanzato Work Experience che noi chiamiamo WEX Allora le mie aspettative rispetto alla WEX sono di poter apprendere come diciamo dialogare nella forma più opportuna con eventuali altri blogger in modo tale poi da poterne anche fare diciamo un bagaglio sempre più ampio nell'azienda in cui lavoro dove per l'appunto adoperiamo questa tecnica diciamo di Digital PR, perlomeno ho provato a reinserirla io inizialmente perché fino a qualche tempo fa ancora non si adoperava e niente quindi spero comunque di oltre alla fase diciamo di contatto e proposta con i blogger anche capire le varie tecniche per come cercare il più verticale possibile i blogger che possono interessare a qualsiasi azienda diciamo a cui poi lavorerò in futuro se no magari sono la stessa e niente diciamo questo è un po' il mio obiettivo da questa WEX di Digital PR Allora io ho scelto Digital PR per le varie WEX experience era quella che più di altre a mio avviso dove va dell'affinità con la mia esperienza personale nel senso che io vengo a lavorare nelle vendite ed essendo quello un lavoro dove ovviamente c'è un aspetto relazionale importante Ciao, io ho scelto Digital PR perché mi ricollego al discorso dei miei colleghi precedenti in quanto appunto è una delle materie che ha più affinità con il lavoro attuale che sto facendo mi occupo di sales in un'agenzia di comunicazione quindi per me sicuramente fondamentale anche apprendere gli aspetti relativi alla digital PR Penso che è andata bene, Enzo ancora non ci ha dato proprio le risposte però penso che è andata bene per tutti Ottimo, hai studiato tanto, ti sei preparata? Eh sì, abbiamo dovuto rivedere un po' le lezioni appunto di Enzo però si poteva fare Bene, diciamo molto bene, siamo andati subito, siamo stati subito operativi e comunque ci aspettiamo insomma di poter come detto prima apprendere sempre di più di mettiere Vi ringrazio per il vostro tempo ragazzi Vi lascio andare a lavorare Prego Ciao, grazie a tutti Grazie Ciao Ciao lavoro Ciao 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 Grazie a tutti